Nel 2011 il mercato turistico italiano ha raggiunto il valore di 18,4 miliardi di euro, il 18% dei quali è stato intermediato online. Nel 2013 le proiezioni indicano un valore totale di 19,6 miliardi di euro, la cui componente online sarà di 4,8 miliardi, pari a ben il 20% del mercato. Questi primi dati che emergono dall'Italian Travel Overview Report 2011, ricerca condotta da Focusrite, uno degli istituti di ricerca più autorevoli a livello internazionale del settore del turismo. È presentata oggi in anteprima assoluta a Firenze per Buy Tourism Online, l'evento di riferimento per il mondo digitale del turismo. E la chiave dello sviluppo italiano, secondo Focusrite, è il mobile, grazie all'enorme diffusione di cellulari e smartphone nel nostro paese. In un mercato come l'Italia la percentuale di penetrazione del mobile arriva al 90%, un dato abbastanza incredibile, quindi penso che in alcuni mercati la penetrazione del mobile molto presto supererà quella di Internet. Per Focusrite la quota di mercato turistico che passa dal web in Italia è ancora sotto la media, totalizzando un valore che sfiora il 20% rispetto ad una media europea del 35%, segno evidente che il margine di espansione è molto elevato. Una chiave potenziale di successo per gli operatori turistici italiani è rappresentata dai social network. L'Italia ha il più alto uso di social network nel mondo, quindi questa è una grandissima opportunità per i players del settore travel in Italia, che al momento rimane del tutto inutilizzata. Grazie a tutti!